Ciao a tutti e benvenuti a Plymos de Calcio. Voglio approfittare della sosta dovuta agli impegni delle nazionali per affrontare un tema che credo sia attuale, Romelu Lukaku. Per tutta l'estate l'attaccante Berga è stato l'oggetto del desiderio di Antonio Conte, calciatore dal quale ricominciare dopo la partenza di Osimen, che tuttavia tardava a concretizzarsi. Sappiamo tutti che la gestione di Osimen ha bloccato il mercato del Napoli, non solo l'arrivo di Big Rom. Antonio Conte era nervoso per la situazione sin quando De Laurentiis non ha rotto gli indugi. Ovviamente chi ha sofferto di più per questa situazione di stallo è stato Lukaku, che non ha potuto fare una preparazione per campionato come si deve, si è dovuto allenare da solo e per ovvie ragioni la sua forma a inizio campionato non era delle migliori, complice anche la stazza fisica. Perché Conte ha scommesso fin dall'inizio su Lukaku? Vi lascio un attimo per pensare, poi proseguo il discorso. Nel frattempo iscrivetevi al canale. Andiamo avanti. Conte sapeva fin dall'inizio che il mercato del Napoli sarebbe stato finanziato dalla cessione di Osimen. È evidente che le priorità erano due, un difensore forte e affidabile, buongiorno, e un attaccante, ma c'erano anche altri buchi da coprire e la coperta anche con i 130 milioni di Osimen sarebbe stata corta. Infatti ne sono stati spesi circa 150 ed è mancato all'esterno destro. C'è pure un'altra cosa che è mancata, i suddetti soldi della cessione di Osimen. Aggiungo un altro dato che invito a tenere a mente. Il costo complessivo dell'operazione di Lukaku tra cartellino e ingaggio lordo è stato di 53.580.000 euro, cifra spammata in tre anni. Non sono pochi, sapendo che Lukaku non potrà mai generare una prosvalenza. Nonostante ciò, perché Conte si è impuntato su Lukaku? Primo, perché è un calciatore che conosce bene. Secondo, era convinto che nella peggiore delle situazioni avrebbe avuto il berg a Castel di Sangro, in tempo utile quindi per lavorarci su. Terzo, Conte era convinto di giocare con una difesa a tre, aveva già pianificato Di Lorenzo centrodestra con licenze di attaccare nell'half space. Pertanto servivano soldi anche per l'esterno destro, ma soprattutto per il 3-4-2-1. Lukaku, nell'idea del tecnico, era perfetto, anzi indispensabile nella sua idea di gioco. Poi è successo che il mercato non ha portato all'esterno destro che serviva, ma soprattutto ha portato calciatori che consentivano di giocare con un modulo diverso da quello pensato in origine. Quarto punto, quale attaccante si sarebbe potuto prendere per 30 milioni? Non un nome che avrebbe fatto piacere alla piazza. Personalmente sognò oggi sì, 40 milioni, ma è chiaro che per caratteristiche Conte non lo avrebbe mai preso in considerazione per il ruolo di punta centrale. Mi sarei fiammato su Corrad Arder, costato lo Sporting meno di 20 milioni, ma prima la piazza e Conte poi avrebbero protestato. Che poi sia chiaro, Arder è una prima punta, ma gioca in modo diverso da Lukaku. Nomi e ipotesi a parte, Conte non ha mai preso in considerazione attaccanti diversi dal Belga, perché aveva bisogno di certezze sulle quali fondare il suo progetto. Personalmente su Lukaku ho sempre avuto perplessità. L'anno scorso alla Roma, nonostante i 21 gol, non mi ha entusiasmato, e dica se lo stesso per l'anno prima all'Inter. Io non posso dirmi dell'uso del Belga perché non avevo grandi aspettative. Mi aspettavo un rendimento in linea con quanto stiamo vedendo oggi. Tempo fa ho detto che per me Lukaku avrebbe segnato tra i 10 e i 15 gol, che non sono pochi, ma vanno comunque considerati anche nell'ambito del contributo che dà al gioco del Napoli. Oggi Lukaku non dà profondità, difficilmente entra in area di rigore, è troppo statico, facile da marcare. A ciò aggiungiamo che, in generale, la fase offensiva del Napoli lascia a desiderare. Ne ho parlato in altri video, quindi inutile ripetermi. E il gioco è fatto. A questo punto mi chiedo, Lukaku è penalizzato dalla fase offensiva del Napoli oppure è Lukaku che penalizza la fase offensiva. E lo chiedo pur avendo ben chiaro che è un discorso che va generalizzato necessariamente all'intera squadra. Dite la vostra opinione lasciando un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.